inizialmente neanche voi capite la dinamica ma provate a pensarci, è chiarissima se voi seguite la legge degli uomini e non quella di Dio siete dipendenti da Dio o indipendenti da Dio capite dove voleva arrivare? era un drittone gli altri che non sono meno intelligenti hanno capito dove voleva arrivare e quindi decidono di ammazzarlo in tutta la predicazione pubblica di Gesù c'è stato questo problema cosa ha fatto la Chiesa Nascente? riportando questo episodio dell'incontro con il notabile che dagli altri evangelisti sappiamo essere anche giovani la Chiesa Nascente infila dentro il comandamento dei genitori per ricordare come la gente sia più propensa a seguire le leggi delle devozioni che non le leggi di Dio ho fatto un peccato perché nella coroncina ho saltato un giorno scusa? e sì perché bisogna fare ogni giorno senza saltare una volta peccato è avere altri dei nominare il nome di Dio in vano non santificare la festa non onorare i genitori quali sono peccati? saltare un giorno o di una coroncina non è un peccato lo hai saltato? sì lo riprendi oggi c'era digiuno mamma mia invece ho mangiato senza saperlo Don Renato ho fatto peccato? no? digiuno lo farai domani non sei riuscito a farlo oggi? domani lo fai e buonanotte dov'è il problema? ho saltato la messa la domenica dico e lunedì avevi tempo per andare a messa? sì e perché non sei andato? eh ma la dottrina dice che bisogna andare a messa la domenica sì è giusto ma se non puoi vai il giorno dopo cristianesimo non è una gabbia invece noi la stiamo facendo qui la stiamo facendo diventare una gabbia soffocante ed è questo che non funziona perché una fede che non libera l'uomo ma lo soffoca non è una fede certo che se alla domenica tu potevi andare e hai detto no non vado beh è giusto che ci riflettiamo su quella tua decisione ma se tu non potevi per tanti motivi supplisci come puoi non ci sono difficoltà bene allora torniamo al nostro testo e vediamo Gesù dice tutto questo l'hai fatto? perché il giovanotto questo notabile dice ma io ho vissuto questi valori quindi questo giovane fondamentalmente è una persona sana a livello di struttura di fede allora Gesù gli fa una proposta un pochettino più avanzata che è quella di vendere i beni no non è questa la proposta di Gesù vendere tutto quello che hai distribuirlo ai poveri è solo uno strumento perché l'obiettivo qual è? è allo zero venti l'obiettivo l'obiettivo è nel testo greco la terza parola a colusei quello è l'obiettivo quindi tutto ciò che ti impedisce di seguirlo toglilo se oggi a te i soldi non impediscono di seguire Gesù Cristo tienili il problema è non mitizzare mai gli strumenti è l'obiettivo che è importante e l'importante è seguirlo l'importante è quel seguimi questo verbo voi lo trovate per esempio nel Vangelo di Marco nel capitolo primo Gesù si trova lungo il lago di Tiberiade vede le due coppie di fratelli Andrea e Pietro Giacomo e Giovanni e gli dice ho piso mu dietro a me che è l'equivalente di a colusevo domenica Pietro mi ami tu ti amo mi amo mi amo mi amo poi a ogni risposta di Pietro Gesù dice pasci i miei agnelli pasci le mie pecorelle Pietro sapeva cosa stava dicendo Gesù provane sia che si volta vede il discepolo che Gesù amava non dite mai chi è perché non lo sappiamo Giovanni Lazzaro boh quello lì non ha mai tradito Gesù lo ha seguito fino al Calvario e Pietro che si rendeva conto della grossa missione che Gesù gli stava affidando dice ma lui è più degno e lui Gesù si arrabbia e gli dice che che importa a te tu seguimi è una vera e propria chiamata ed è la chiamata che è stata rivolta a tutti coloro che sono battezzati dunque Gesù cosa sta dicendo c'è un grado di vita morale che si fonda sui comandamenti ma c'è qualche cosa di migliore che è fondata sul Cristo al posto mio che cosa farebbe perché quel seguimi indica l'invito al discepolato cristiano e il discepolato cristiano ha come obiettivo l'imitazione del maestro e quindi nel cristianesimo nascente questa idea era chiarissima dieci comandamenti formano lo zoccolo duro ma la morale cristiana non si identifica con quello zoccolo duro morale cristiana è diversa la morale cristiana è la sequela di Gesù una sequela che non finisce mai perché Gesù l'ha detto non fatevi chiamare maestri sono io il maestro quindi nessuno arriverà al diploma rimarremo studenti per tutta la vita e quindi saremo discepoli per tutta la vita e quindi per tutta la vita noi cammineremo in questo tentativo di imitarlo certamente più maturi diventiamo più siamo capaci di essere come lui ma non riusciremo mai a diventare identici a lui allora lui si arrabbia con noi uscì un seminatore a seminare gran parte di questa parola di Dio è andata a cattivo fine perché non è neanche spuntata ma lì dove ha attecchito che prodotto ha dato leggere i testi perché se non li leggete poi non capite il messaggio il 100 il 60 il 30 tu quanto dai a livello di imitazione il 30 sì non riesco di più ma quello lì dà più di me e a te che importa tu seguimi capite la logica della teologia biblica è estremamente rasserenante chissà perché Gesù nell'ultima cena dice vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena non riusciamo mai a capire vero quella frase lì forse un po' la volta noi sì proviamo tanta gente si è meravigliata della moris letizia già è troppo aperto no 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 questo qui ci porta all'eresia quando mai sto qua è gesuita quando siete responsabili di un peccato materia grave non basta una occorrono tutti tre quando tutti rigiù un bestemmone sei colpevole o no berlusconi ha tirato giù una bestemmia ricordate e il vescovo non si dice il nome interrogato ha fatto una figura papina perché bastava che applicasse il criterio che adoperano i preti quando confessano bestemmia è materia grave sì quella è una bestemmia punto chi l'ha detta è responsabile è solo il soggetto che può dire se aveva piena avvertenza o deliberato consenso o se gli è scappata l'entusiasmo della barzalletta possiamo dirlo noi? no lo deve dire lui ma bestemmia è bestemmia chi confessa deve sempre essere lucidissimo su questi tre criteri se no confesserà sempre male materia don Renato mi sono distratta durante le preghiere a una santa suora gli ho detto madre dico io non le do la soluzione è tanto grave quello che ho fatto no dico non c'è niente non c'è materia e lì dove non c'è materia che soluzione le devo dare ma mi ha sempre insegnato che le distrazioni durante le preghiere è da confessare la distrazione è da far rientrare e basta perché ti distrai sapendo di distrarti volendo distrarti o ci si distrae ci si accorge dopo di essersi distratti Bergoglio cosa fa? divorziare e convivere con un'altra donna divorziare e convivere con un altro uomo è materia grave però dice è ora di finirla che in questo campo si adoperi solo un criterio e gli altri due per cui se voi leggete il testo è di una precisione morale classica non è moderno ha semplicemente applicato tutte le regole applicabili quelle che parecchi preti già applicavamo e cioè quanto sei libero nel fare ciò che stai facendo e quanto sei consapevole ed è per questo che Bergoglio non apre in automatico a tutti ma dice che il pastore traduciamo il parroco il cappellano il prete che ti segue deve aiutarti affinché tu faccia chiarezza dentro di te perché solo il soggetto che può dare giudizio su queste due cose non c'è nessun tribunale che può giudicare queste due cose questa sì ma questa no e quindi sei tu che devi fare chiarezza dentro di te il prete ti aiuta e secondo la chiarezza che esce fuori tu ti accorgerai che potrai accostarti i sacramenti o no perché ti renderai conto che ti trovi in una situazione magari dalla quale non puoi più uscirne perché c'è un baby di mezzo e questo bambino ha diritto ad avere te come padre e te come madre e allora sei libero? no e allora se non sei libero pur vivendo in una situazione di materia grave non sei pienamente responsabile perché hai posto dei gesti prima di cui non ti rendevi conto come sarebbero andate le cose oggi tu non puoi più tornare indietro che fai? ti spari? avete capito Bergoglio? Bergoglio è modernissimo con le regole classiche la stessa cosa sta succedendo qui Gesù cosa dice? se tu mi segui tu li edempirai tutti e anche molto di più ma non sarai ossessionato dalla virgola dall'applicazione dei principi ma li ho applicati bene non li ho applicati bene questo diventa un fatto giuridico non più una testimonianza di fede e allora Gesù ti fa fare il salto a chi vuole essere cristiano dice senti impara a conoscermi progressivamente mi imiti ed è chiaro che questa imitazione cresce man mano cresce la conoscenza più il credente conosce Gesù Cristo quindi si è letto una dieci cinquanta cento volte il Vangelo più conosci Gesù Cristo più rispondi in maniera competente alla domanda Cristo al posto mio cosa farebbe e allora ti accorgi che la vita cristiana è un progresso è un cammino i cristiani lo sapevano benissimo dal momento che chiamavano il cristianesimo la strada bene dunque la chiave di volta è il verbo accoluseuo seguire cristianesimo non rifiuta i comandamenti ma percepisce che hanno dei limiti perché hanno dei limiti lo vedremo nella seconda parte della nostra conversazione perché i comandamenti non esplicitano alcune dimensioni morali che sono essenziali per il cristianesimo il perdono è essenziale perché non giudicate per non con la misura con cui misurate rimetti a noi i nostri debiti poi poi capitano gli esegeti e ci dicono ma prima Dio perdona poi tu sei chiamato a perdonare gli altri sì ho capito io me il perdono ci deve essere nella vita cristiana tu non puoi vivere da cristiano senza perdonare certamente il perdono non è un automatismo tu mi fai un occhio nero io ti perdono no aspetta anche il perdono è una strada da fare potrebbe durare molto tempo forse anche tutta la vita perché prima che io possa perdonarti devo guarire la mia ferita altrimenti sto recitando un teatro perché di fatto non ti perdono lo dico ma dentro di me ti odio e allora per non fare questa fariseata è bene che tu prima guarisca la tua ferita poi puoi incominciare una strada di riconciliazione il fatto però che tu non ti vendichi è già l'imboccatura della strada corretta poi quando perdonerai e non lo so però la strada l'hai imboccata giusta questo è importante non si può prendere l'animo umano e torturarlo perché nessuna parte del Vangelo è scritto questo non si può prendere l'animo umano e torturarlo fin adesso abbiamo parlato di ciò che è in potere nostro di fare ma siccome Gesù aveva una lampadina più di noi per farti vedere cosa scrive l'Evangelista riportando le parole di Gesù al versetto 27 il versetto 27 si trova nell'ultima riga del primo foglio ciò che è impossibile agli uomini è possibile a Dio cosa sta dicendo problema vero sta dicendo la cosa più semplice di questo mondo tu fai quello che puoi il resto lo fa lui questo sta dicendo io ve lo traduco con parole nostre perdonare Don Renato è impossibile umanamente è vero ma ciò che non puoi tu lo può lui e quindi aspetta la possibilità di perdonare come un dono che ti arriva da lui non è buona volontà tua perché se tu non riesci non riesci non riesci ad imitare Gesù Cristo se non al 30% è il massimo che puoi fare va bene per te è impossibile sì non sta a preoccuparti se riesci a fare qualcosa di più lì fai esperienza che lui ti ha donato qualcosa quando io dico guardate che Dio agisce nella storia sto dicendo anche questo tu percepisci i tuoi limiti e non vergognarti mai quando ti accorgi che questi limiti riesci a superarli allora ti accorgi che non sei tu ma che hai ricevuto qualche cosa da qualche parte per potercela fare e allora capisci che cosa significa Dio interviene nella tua storia ti fa fare esperienza di lui che non sono le visionette sulle nuvolette ma ti fa toccare con mano prima i tuoi limiti e poi ti dici guarda di non preoccuparti io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo e ti sgancia a quello di cui hai bisogno e tu ne fai esperienza ho paura di Dio che passi e che io non me ne avveda Sant'Agostino lo sapeva già lui e parlava in questi termini il caffè è sacro sono le 10 e 29 ci vediamo le 10 e 45 5 Grazie a tutti.